Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua per finire il Rays of the Light. Allora, io ho fatto, ce l'ho fatta, questo è come deve essere fatto nel caso che voi abbiate bisogno e ora finalmente direi che possiamo andare ad accendere questo famoso proiettore. Finalmente. Accendiamo. Ancora ma sta musica fuori luogo un botto fuori luogo un botto diciamo che è un riassunto praticamente guerre, conflitti e chi più ne metta e alla fine chi vince è la natura giustamente e questo che devo fa' è utile a qualcosa o... do fuoco quindi ora non ho capito se devo fare qualcosa riferito alla macchina no perché tanto non mi fa far niente no direi che per il momento questo questo l'ha già visto torniamo indietro cos'è sto rumore perché è buio ma che per ok calma oddio di qua c'è qualcosa o... la macchina Ah c'è un ultimo biglietto Allora i sentimenti sono in conflitto ma ormai i sensi di paura sono andati Tutto ha una fine perché in questo mondo molte cose sono belle e di grande importanza, di grande valore E' sempre una cosa per cui vivere, in questo momento ricordo la differenza tra le persone, l'egoismo insomma La luce e l'oscurità sono due versanti della stessa moneta, due facciate Sono, vabbè, collegati con altre cose che danno, che bilanciano i millennia Che non so cosa sia Dopotutto loro ci portano qua, cioè dopo tutto questo ci porta qui Ok Mamma mia Che ansia sto gioco, che ansia Ma che ca... Ma Cosa, cosa vuol dire? Mi sto accecando ragazzi Mi sto accecando Sì, direi di sì Ah sto ancora camminando In teoria Qua sembra molto Death Stranding Comunque Strano come il gioco sia All'inizio così tranquillo Poi riversa in una In una cattiveria In una paura incredibile Cioè Io non me lo sarei mai aspettato Che fosse così questo gioco Da come era iniziato Non l'avrei mai detto Bello Bello, bello Questa è tutta la gente che secondo me va in paradiso Dopo la morte qua sul mondo Dopo il bombardamento Secondo me Ah, anch'io sto andando su Sì Però io vado più dentro degli altri Non so perché questa cosa Quanta gente Mamma mia Tanta 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione